Ereditiamo la terra dai nostri antenati e la prendiamo in prestito dai nostri figli. È la storia della mia famiglia e di come, dal coraggio di seguire un sogno e una passione, sia nato qualcosa di più grande di un semplice lavoro. Tutto comincia molto tempo fa, quando mio padre, impegnato nell'azienda di mio nonno, decide di cambiare mestiere e trovare un'occupazione anche per mia madre. Inizialmente si pensa ad una fioriera, ma ben presto l'idea si trasforma nell'apertura di un garden center. È il 1990. La passione per le piante e le fioriture finisce per coinvolgere mio padre, che improvvisamente si ritrova inserito a tempo pieno con la sua piccola attività nella grande realtà produttiva del territorio. È proprio nella gran mole di lavoro e nelle giornate così impegnative che nasciamo io e mio fratello Stefano. Le paure sono molte e l'esperienza poca. Sono momenti difficili per i miei genitori. Passano alcuni anni, aumenta la superficie produttiva e nell'anno 2000 si volta pagina, passando dalla vendita al dettaglio alla sola produzione. Il 2003 è l'anno delle decisioni importanti. Le cose non vanno molto bene, gli errori sono tanti e le possibilità sono troppo poche. Si pensa alla chiusura, ma l'amore tra i miei genitori prevale, come nelle favole. Si danno forza e crescendo insieme in pochi anni riescono a capire i segreti di questa avventura, attualizzandoli. Si meccanizzano, aumentano la superficie e le varietà coltivate. Nel frattempo la mia famiglia si unisce sempre di più e i nostri genitori cominciano a coinvolgerci nell'attività, svelandoci i segreti e trasmettendoci la passione per questo lavoro, mostrandoci come rialzarci dalle cadute, imparando dai propri errori. Il vero slancio arriva nel 2011, quando il coraggio prevale sulla paura di cadere nel vuoto. La nostra unione, la nostra forza, si trasforma così nella costruzione di una nuova azienda, che permette di inserirci in un mercato del tutto nuovo, dove le altre imprese, prima che come concorrenti, guardano a noi come l'esempio di una grande famiglia, dove l'unione e il sentimento si trasformano in qualcosa di concreto. Grazie.